Il duo di chitarra battente e l'Occisano de Carolis supera i confini nazionali per due concerti in Francia. Porteremo il sound delle nostre chitarre battenti per due concerti francesi, entrambi l'8 ottobre. Suoneremo in mattinata alle 11 a Montpellier, presso la Maison de Relation Internationale per l'Eventiquatter de Mentes di l'Ese Internazionale della Chitarra, e in serata alle 21 a Saorges, al Village entre le ciel et terre. Quindi, prima di iniziare a ripassare il mio francese un po' arrugginito, ti parlo in italiano e ti parlo di questi due concerti. Sono un po' emozionato per il mio ritorno in Francia, suonare nella terra di uno dei miei maestri, il compianto Rolandienz, mi rende orgoglioso ma soprattutto molto emozionato, ma sono sicuro che insieme all'Occisano daremo il nostro meglio per questi due concerti. Tra l'altro ti avviso che nei prossimi giorni, sui canali social miei e quelli di Francesco L'Occisano, racconteremo un po' il nostro viaggio e il nostro concerto. Abbiamo di fronte a noi 14 ore di viaggio in macchina e sono sicuro che ci divertiremo tantissimo. Quindi se vuoi divertirti con noi, seguici sui nostri social Facebook ed Instagram, trovi tutti i link in descrizione. L'Ese Internazionale della Chitarra è un festival musicale giunto alla sua 27esima edizione. Il festival si svolge al sud della Francia, si occupa principalmente di chitarra, ma lascia spazio a diversi generi musicali e a vari strumenti. Quest'anno tra i vari ospiti del festival spiccano grandi artisti. Ci sarà il concerto per i 40 anni di carriera di Berlila Gren, Groenbregovic, Le Grand Orchestra e tantissimi altri concerti. Oltre alla musica viene lasciato spazio anche alla Liuteria. Infatti, parallelamente al festival, c'è stata la 25esima edizione del Salone Internazionale della Luiterie du Guitare Sud de France. Le 24 de l'Ese sono degli eventi che propongono la scoperta della città attraverso un percorso musicale insolito. Ideato sempre dall'Ese Internazionale della Guitare nel 2009, è una maratona di 10 concerti eclettici. Tra questi 10 concerti ci sarà quello del nostro duo di chitarra battente, lo Cisano dei Carolis. Suoneremo sabato 8 ottobre alle 11 presso la Maison de Relation Internazionale intitolata a Nelson Mandela. Ma ovviamente le nostre chitarre battenti non si fermano e il nostro percorso musicale continua. Infatti la sera ci sposteremo a Saorges per un altro concerto. Suoneremo alle 21 presso il Village entre ciel et terre. Per ora questo piccolo tour di concerti francesi si ferma qui, ma ci sono altri concerti in programma in giro per l'Europa. Ringrazio ancora Italisona di Giuseppe Marasco e Music For You di Eric Van Monkoen per aver organizzato questo tour francese. Ti lascio assaporare un po' il suono della chitarra battente. Il suono della chitarra battente è un po' il suono della chitarra battente. Grazie a tutti. Ci vediamo l'8 ottobre alle 11 a Montpellier per l'Aise Internationale della Chitarra e poi alle 21 a Saorges per il tour francese del duolo cisano De Carolis. Per non perdere le prossime novità del duolo cisano De Carolis e della chitarra battente ti invito a seguire il mio sito www.marcellodecarolis.com, iscriverti alla newsletter, i miei social Facebook, Instagram e Spotify ed iscriverti al mio canale YouTube. E se vuoi puoi sostenere il mio lavoro con una donazione Paypal, trovi il link in descrizione o su YouTube. E infine puoi abbonarti al mio canale YouTube per poter ricevere alcuni vantaggi in esclusiva. Ciao!